Se chiudono i negozi, che cosa rimane di questa città? Siamo a Pescara Centro, mancano poco più di 20 giorni a Natale, sono già state posizionate le luminarie, alle mie spalle vedete l'albero del comune quasi completamente allestito e anche nelle vetrine dei negozi compaiono i primi addobbi, i commercianti si stanno preparando alla riapertura. Ci stiamo preparando, sperando di riaprire il prima possibile, stiamo riallessando tutto il negozio con gli addobbi natalizi, nuovi arrivi eccetera, per prepararci i regali di Natale. Siamo chiusi da quasi un mese ormai, per cui veniamo qui la mattina, facciamo foto, storie, cerchiamo almeno di vendere online, che fortunatamente riusciamo a fare qualcosina, ma non è mai il negozio aperto ovviamente, anche perché abbiamo tutto questo negozio così grande e così bello che è un peccato. Ci auguriamo che riaprano, ovviamente noi adotteremo tutte le misure necessarie per evitare il sovraffollamento, però ci aspettiamo di diventare almeno zona arancione. Le prossime ore saranno decisive per determinare quando si potrà riaprire. I dati della seconda ondata in Abruzzo arrivano oggi sul tavolo del Comitato Tecnico Scientifico e su quello della cabina di regia ministeriale. Domani il colloquio tra il presidente Marsilio e il ministro Speranza. La regione aveva anticipato il governo di due giorni per quanto riguarda l'istituzione della zona rossa in Abruzzo. Adesso vorrebbe tornare zona arancione a partire dal 4 di dicembre. Occorrerà però attendere il via libera del ministro della Salute Speranza, che potrebbe far tornare l'Abruzzo in zona arancione a partire dal 10 di dicembre. Se fosse il 10 sarebbe troppo tardi? Sarebbe troppo tardi sicuramente, perché comunque perdere il ponte dell'8 di dicembre sarebbe un danno enorme per tutti i negozi. Sarebbe tardi perché saltiamo anche l'Immacolata, che l'Immacolata solitamente c'è chi compra e inizia a comprare regalini per Natale, chi inizia a fare un giretto nei negozi, ha voglia di comprarsi quel vestito nuovo, quella gonna nuova. Poi l'importante è che ci fanno aprire. Noi speriamo nel 4, se poi dovesse essere il 10, pazienza. Ma io penso che tanto appena riapriremo le persone avranno voglia di uscire, di comprare, di andare nei negozi a fare i pensieri. E mentre si decide del futuro dell'economia abruzzese, i commercianti, come abbiamo visto, si sono reinventati, con lo shopping online principalmente, anche perché intanto alle spese di gestione, zona rossa o non zona rossa, bisogna comunque far fronte. L'assurdo è che comunque noi abbiamo un negozio anche di fronte dell'adulto e praticamente siamo chiusi. Siamo chiusi e questo comporta un danno pazzesco. Abbiamo tre persone in cassa integrazione e poi a oggi praticamente noi ancora non sappiamo quando riaprire. Ed è assurdo tutto questo. Il Natale è arrivato e per noi è un danno troppo, troppo grande che non riusciremo mai a recuperare. Un'azienda che ha una spesa mensile di milioni, perché comunque gli affitti si devono pagare, il personale bisogna pagarlo, quindi contributi, stipendi, tutto quanto, è la merce, è la merce che tu hai acquistato ed è invenduta e che ti rimane dentro il negozio. Cioè questo chi lo paga? Lo Stato non ci ha dato nulla. Neanche uno degli aiuti promessi è arrivato? Nulla, assolutamente nulla. A oggi noi personalmente non abbiamo visto niente.